Qualcuno deve essere a casa, signore, quando arrivi, qualcuno deve aspettarti, signore, quando arrivi, qualcuno deve cercarti, chi può sapere, quando arrivi, qualcuno deve vederti, signore, quando arrivi, quando arrivi, quando arrivi, attraverso le grate della tua casa, attraverso le grate delle tue parole, attraverso le grate del presente, ora e per sempre, su questa terra, su questa terra, qualcuno deve vegliare, signore, quando arrivi, qualcuno deve farlo, anche per il mondo, con tutti gli altri e per gli altri, chi può sapere, quando arrivi, qualcuno deve cantare, signore, quando arrivi, quando arrivi, quando arrivi, questo è il nostro compito, questo è il nostro compito, vederti arrivare e cantare, perfetto perché tu sei il Signore, e tu hai la gloria, e sei stendente, come nessun altro, E se estendete come nessun altro Qualcuno deve essere a casa, Signore, quando arrivi Chi può sapere, quando arrivi Chi può sapere